Il nuovo presidente della regione Attilio Fontana annuncia la sua giunta, ci sono due bergamasche, Claudia Terzi alle infrastrutture e la selvinese Lara Magoni al turismo. A Doneta negli ultimi mesi diversi i lavori pubblici messi in campo dall'amministrazione comunale, conclusi gli interventi al municipio e per la passerella del cimitero di Cantoni. Pasquetta in cammino o di corsa per i più allenati nelle cinque terre della Val Gandino torna la marcia dei Coertì organizzata dall'Effe Giovani. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli, oggi pomeriggio il presidente della regione Lombardia ha comunicato la composizione della nuova giunta, due i volti bergamaschi in squadra con Attilio Fontana. La leghista Claudia Terzi, già assessore all'ambiente, avrà la delega alle infrastrutture, subentra a un altro bergamasco, Alessandro Sorte di Forza Italia, eletto alla Camera. Mentre Lara Magoni di Fratelli d'Italia ha ricevuto la delega al turismo. L'ex sciatrice di Selvino prenderà il posto dell'assessore Mauro Parolini. Entrambe dovranno lasciare il seggio in Parlamento appena conquistato, terzi alla Camera e Magoni al Senato. Gli altri componenti della giunta sono Fabrizio Sala, vicepresidente con deleghe a ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione. Raffaele Cattaneo all'ambiente e clima, Riccardo Decorato alla sicurezza, Stefano Bruno Galli all'autonomia e cultura, Pietro Foroni al territorio e protezione civile, Fabio Rolfi all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Davide Caparini al bilancio finanze e semplificazione, Massimo Sertori agli enti locali, montagna e piccoli comuni, Melania Rizzoli all'istruzione, formazione e lavoro, Silvia Piani alle politiche per la famiglia, pari opportunità e genitorialità, Stefano Bolognini alle politiche sociali e abitative e alla disabilità, Martina Cambiaghi allo sport e giovani, Alessandro Mattinzoli allo sviluppo economico e infine Giulio Gallera al welfare. Questa quindi la composizione della nuova giunta regionale. Cambiamo argomento, andiamo a Doneta dove sono diversi lavori pubblici messi in campo dall'amministrazione comunale negli ultimi mesi. Andrea Filisetti ha intervistato il sindaco Angelo Dallagrassa. In queste settimane avete concluso e state anche in realtà concludendo alcune opere sul territorio. Sì, abbiamo messo al fuoco un po' di carne e diciamo che abbiamo raggiunto buoni obiettivi, soprattutto il discorso dell'edificio comunale, abbiamo sostituito la caldaia che ormai aveva quasi 30 anni di esercizio e quindi rappresentava un consumo notevole ma oltretutto anche un pericolo come funzionamento e quindi quello è risolto, l'impianto di riscaldamento funziona egregiamente, almeno fino ad ora è andato bene, speriamo che duri ancora per almeno qualche decennio e così sarà. Poi abbiamo sistemato le pareti dell'edificio comunale, le nuove facciate, su una di queste speriamo di poter riuscire a realizzare una specie di murales, una cosa interessante che rappresenti un po' la storia del nostro paese con varie immagini e quindi stiamo lavorando adesso con una persona, un artista che fa queste operazioni qui. Queste sono le opere importanti, un'altra che è appena conclusa, giusto ieri, ed è la passerella che collega praticamente il cimitero di Cantone Doneta, quindi il cimitero è in una posizione molto difficile di accesso, pericolosa tra l'altro, perché c'era l'attraversamento quasi in curva per accedere alla gradinata e quindi abbiamo trovato una soluzione che è stata abbastanza onerosa, che però per nostra fortuna, grazie anche all'intervento della provincia e soprattutto della provincia che ci è venuto in soccorso, grazie ovviamente anche all'intervento dell'amministrazione comunale Doneta che ha stilato i progetti e si è fatta carico ad esempio della segnaletica e anche degli impianti di illuminazione, comunque l'opera in sé principale se l'ha presa in carico la provincia, io qui sinceramente con tutto il cuore devo ringraziare l'ente provincia, una persona in particolare che è l'ingegnere Zanni Antonio che ci è stato di grande aiuto, il suo apporto è stato fondamentale in questo senso, quindi ieri si è concluso questo intervento e credo che la comunità di Cantoni possa essere contenta, soddisfatta e era una questione che durava da molto tempo e finalmente siamo arrivati anche a risolvere questo problema e su da vedere è veramente venuto un buon lavoro, un bel lavoro. Inoltre state lavorando alla riqualificazione dell'area a plazza? Sì, abbiamo già appaltato il lavoro, è una frazione qui, che sta sopra qui, Oneta, è una frazione molto bella e in una posizione viene esposta, c'è alcuni fabbricati, questo piccolo nucleo urbano che ha una situazione un po' di degrado, sostanzialmente qui il tempo e le intemperie hanno creato qualche problema, quindi la raccolta di acque, la regimazione delle acque, abbiamo bisogno appunto di realizzare questo elemento sostanziale della regimazione delle acque e nello stesso tempo sistemeremo anche la parte interna che proprio per l'azione erosiva dei temporali e compagnia vela ha procurato un po' qualche degrado nella situazione, quindi dovremmo andare a migliorare e riqualificare anche questo piccolo borgo che è veramente un piccolo gioiello del paese di Oneta. Ci spostiamo di pochi chilometri, andiamo a Premolo dove il Comune è in cerca di contributi per sistemare i sentieri per la sicurezza, per il wifi gratuito in paese e per progetti sul patrimonio culturale. Abbiamo fatto il punto con il primo cittadino Omar Seghezzi. Il Comune di Premolo sta partecipando da alcuni bandi? Sì, il primo che abbiamo partecipato nei giorni scorsi è il Bando Sviluppo Valli per Alpine in collaborazione con i comuni della Val di Scalve e con altri 11 comuni della Val Seriana e come ente capofila alla nostra comunità montana-valle seriana. Con questo bando noi andremmo a sistemare e rivalorizzare gran parte della sentieristica e delle antiche strade comunque di Premolo, quindi sia in un'ottica di valorizzazione storica, valorizzazione del territorio e appunto in un'ottica, come dicevo, come stavo dicendo, anche escursionistica. Quindi i nostri lavori sarebbero a Montenebro a 140 mila euro e il finanziamento corrispondente sarebbe di 106 mila euro circa. Quindi andremmo appunto a sistemare gran parte del nostro territorio. L'altro bando a cui abbiamo partecipato nei giorni scorsi e penso che a breve ci sarà la risposta e speriamo che sia positiva, anche se sono poco fiducioso visto la mole di domande che sono arrivate a livello nazionale, è un bando del Ministero dell'Interno per la Sicurezza e nello specifico i nostri progetti sono improntati sulla sicurezza stradale. Sarebbero un finanziamento a fondo perduto di 130 mila euro ma come dicevo hanno partecipato a questo bando più di 4 mila comuni per circa 7 miliardi di euro totale di richiesta finanziamenti contro 150 milioni finanziabili quest'anno. Sarà molto difficile nel caso abbiamo tutta pronta la progettazione e ripresenteremo in caso di risposta negativa al prossimo bando la richiesta di finanziamento. Un altro bando a cui sempre negli ultimi giorni abbiamo partecipato, un bando europeo per lo sviluppo del Wi-Fi gratuito presso i nostri comuni. Wi-Fi gratuito già presente nella zona, questo di recente negli ultimi mesi, nella zona del Palazzo Comunale, nelle scuole elementari e nella zona della biblioteca. Se dovessimo avere accesso a questo finanziamento riusciremmo praticamente a coprire con gli hotspot in gran parte, quasi tutto il Paese e quindi sarebbe un ottimo risultato. Speriamo che sia un'occasione positiva anche questa per noi. E sempre in questi giorni stiamo lavorando, sono lavori, progetti già portati avanti già negli ultimi mesi, a dei bandi sempre di Regione Lombardia improntati sulla cultura. Quindi avevamo già investito degli studi, delle ricerche storiche sul nostro patrimonio appunto storico-culturale di Premolo. Vedremo se riusciremo a avere accesso a questi finanziamenti e comunque a breve ci sarà la presentazione di uno di questi lavori che è una ricerca praticamente sulle migrazioni di nostri concittadini premolesi nel 300 e nel 400, soprattutto nella zona della bassa Padana, nella zona del Cremonese. Tra l'altro una storia molto particolare perché alcune di queste famiglie poi sono diventati nobili, sono diventati conti marchesi, sono diventati conti premoli dall'origine appunto del nostro paese. Quindi comunicheremo poi quando ci sarà la presentazione e la distribuzione ovviamente gratuita a tutta la nostra cittadinanza. E ci sono anche opere attese a breve come l'illuminazione pubblica? Sì, settimana prossima abbiamo dovuto aspettare un paio di mesi viste le condizioni meteorecenti, inizieranno i lavori tra via Sorgente e la contrada Ceradello di implementazione, visto che era sprovvista quella zona, dell'illuminazione pubblica. Sono lavori per 50 mila euro compresa la progettazione e molto utili sempre anche nell'ottica della sicurezza stradale di cui parlavamo prima. Il mondo del calcio piange Emiliano Mondonico. Dopo aver lottato per sette anni contro la malattia che lo aveva colpito e che si è riacutizzata nell'ultimo periodo, Mondonico si è spento all'alba di questa mattina in ospedale a Milano. Aveva 71 anni, compiuti lo scorso 9 marzo. Aveva allenato entrambe le squadre bergamasche, Atalanta e Albinoleffe, ma anche tra le altre Cremonese, Torino, Napoli e Fiorentina. I funerali saranno celebrati sabato alle 10 a rivolta d'Adda, suo paese d'origine in provincia di Cremona. Vogliamo ricordare Mondonico con questa intervista realizzata nel 2012 ad Albino al termine di un incontro con gli studenti del Centro di Formazione Professionale. Un'intervista in cui Mondonico parlava di giovani, dipendenze e volontariato. Vediamo. Oggi a questi ragazzi ha parlato di sport, ma soprattutto ha parlato di vita. Come si può e si può riuscire a vincere la partita della vita? Non pensando che lo sport sia la cosa più importante, ma che la cosa più importante è la vita. E lo sport ti aiuta, ti aiuta a superare le problematiche che la vita giorno per giorno ti mette davanti. È chiaro che nello sport sei obbligato a superare gli avversari, a migliorare i record, andare oltre gli ostacoli. Quello che la vita ci presenta tutti i giorni, perciò sei già nello sport, sei pronto a fare quello. È chiaro che nella vita non devi fare altro che farlo tutti i giorni, però la cosa importante è la vita. Soprattutto ha insistito molto su un messaggio, ha detto ai ragazzi di non buttarsi via. E' chiaro che in questo momento ci sono delle alternative incredibili, proprio che ti sembrano, ti facciano superare le difficoltà. Diciamo che le nuove droghe, soprattutto, sono situazioni che spesso e volentieri, per i ragazzi sono estremamente nocive. E mentre loro pensano, grazie a queste, di superare le difficoltà o di andare oltre quello che sono, in realtà si stanno devastando. Ed è chiaro che una volta devastati è difficilissimo, impossibile, riuscire a ritornare come prima. Ecco perché non devono buttarsi via. Ecco perché devono sì pensare che ci sono le difficoltà, ma che queste difficoltà si può risolverle in altre maniere. Ha parlato anche di volontariato. Che cosa dà il volontariato? Il volontariato ti permette di aiutare chi ha più bisogno di te. Il volontariato ti fa trovare veramente dei rapporti incredibili. Un grazie di queste persone che sono in difficoltà vale più di tante altre cose. Il volontariato ti fa capire che alle volte non conta andare chilometri, chilometri lontani da qui per trovare chi ne ha bisogno. Magari chi ha bisogno vive sul tuo stesso pianerotto. Il Giovedì Santo viene considerato la festa del sacerdozio. In mattinata si è celebrata la messa a Crismale con il Vescovo e tutti i sacerdoti della Diocesi. Tra loro anche Monsignor Gaetano Bonicelli, originario della Val di Scalve, Arcivescovo Emerito di Siena, che proprio quest'anno festeggia il settantesimo della sua ordinazione. Direi che quanto più si va avanti, tanto più anche i ricordi diventano vivi. Settant'anni fa è un'epoca per dire, anche della mia vita, come di tante altre. Ma per me, se penso a quel mattino che ho partito dal seminario alle sei, perché allora la cerimonia era alle sette, sento ancora i passi in via dell'arena, ancora come un segno di grazia, perché i passi mi avvicinavano al momento del sacerdozio. Dirò di più, io ricordo ancora la predica di Monsignor Bernareggi per settant'anni fa. Sarei in grado di riassumerla tutta, tanto mi aveva colpito e mi ha accompagnato durante tutti questi anni. E direi che tutto calcolato, il pre del primo giorno, nei cartelli soprattutto su della nostra valle, c'è la tua messa, devi celebrare come se fosse la prima, come se fosse l'ultima. Credo che la connessione possa essere sempre valida. Ci fermiamo adesso per una pausa, al rientro parleremo della vallata dei libri bambini, il festival di letteratura per ragazzi che si è concluso da pochi giorni e poi andremo in Val Gandino dove a Pasquetta si torna in marcia con i Coerti. Riprendiamo con un'altra domanda. Con il nostro TG più di 8 mila visitatori anche dagli Abruzzi e dal Friuli hanno partecipato alla vallata dei libri bambini, il festival nazionale di letteratura per ragazzi ospitato nelle scorse settimane in Val Seriana. Domani dedicheremo all'evento anche la nostra anteprima a Target con un'intervista allo scrittore Bruno Tognolini. Questa sera invece facciamo il punto con l'organizzatore Roberto Squinzi. Si è conclusa la quinta edizione della vallata dei libri bambini. Un bilancio finale come è andata? Beh, molto soddisfatti. Il festival ha raccolto moltissimi visitatori. Insomma, superiamo le 8 mila unità, quindi ha avuto una buona visibilità. Persone che sono venuti dagli Abruzzi piuttosto che dal Friuli ad esempio a visitare il festival. Questo è buono e positivo. Persone che sono venute da Milano, dal resto della Lombardia. Ecco, il festival acquista ed acquisisce ogni anno una visibilità sempre maggiore. I numeri sono lì a testimoniarlo. Vogliamo superare il muro delle 8 mila presenze, no? Vogliamo crescere, vogliamo arrivare alle 10 mila e superare le 10 mila presenze. Unità. Pensiamo che ci possiamo arrivare, che la struttura sia in grado di pensare ad un festival di questo tipo, di queste dimensioni. Ci dobbiamo lavorare perché ciò accada nei prossimi anni. Quindi già al lavoro per l'edizione 2019? Sì, sicuramente sì. Abbiamo iniziato subito il giorno dopo, immediatamente dopo, al festival. Nel senso che il festival si è chiuso domenica 25 marzo e già noi, il martedì, eravamo a Bologna a contattare gli iscrittori per il festival 2019. Un festival di questa natura ha bisogno necessariamente di un tempo di produzione lungo perché incontra davvero diverse situazioni a cui farà fronte. E tutte queste situazioni meritano molto rispetto da parte dell'organizzazione. e quindi un tempo di preparazione del festival che è di un anno. Che cosa significa avvicinare ai libri, alla cultura, ai bambini e ai ragazzi? Come cercate di portare avanti questo impegno? Beh, una grande scommessa. In un'epoca di nativi digitali, proporre il libro diventa una grande scommessa, ma anche una grande opportunità. Il bambino si trova di fronte ad un oggetto che per lui potrebbe essere quasi sconosciuto, se non glielo si propone. In verità ci accorgiamo che i bambini, quando si avvicinano al libro, se hanno buoni libri, leggono volentieri. E' chiaro che il gioco, magari il gioco digitale diventa magari forse avvincente, ma non è rispettoso dei tempi dei bambini. Nel libro invece i bambini trovano un tempo loro, anche proprio un tempo emozionale loro, che rispetto alla velocità magari dei videogiochi non hanno. I libri danno questo aspetto. I bambini lo colgono sicuramente. Pasquetta in cammino o di corsa per i più allenati nelle cinque terre della Val Gandino. Torna infatti la Marcia dei Coerti, organizzata dall'Effe Giovani con alcune associazioni del territorio. Ormai è tradizione a Pasquetta, all'Effe c'è la Marcia dei Coerti. Siete arrivati all'ottava edizione. Spieghiamo come si svolge questo evento. Ormai è una cosa fondamentale. Il giorno di Pasquetta è diventato un appuntamento importante per tutti, qui nell'ambito delle cinque terre della Val Gandino. Ogni anno il giorno di Pasquetta, quindi per festeggiare anche la primavera, siamo ormai arrivati all'ottava edizione della consueta marcia di Coerti. Sono quattro percorsi dislocati nelle cinque terre della Val Gandino, quindi che attraversano tre paesi, quindi l'Effe, Peia e Gandino. Vengono proposti questi quattro percorsi con tre gradi di difficoltà. È una marcia non competitiva, quindi si può fare una camminata in compagnia, una camminata di gruppo tra amici. Ci sono questi quattro percorsi, uno da sei chilometri che è facile per le famiglie e per tutti. C'è il 12 e il 16 chilometri che cominciano a diventare un po' più impegnativi, quindi per chi ha voglia di fare anche un bel allenamento. e il 19 chilometri diciamo che è un percorso impegnativo. Per chi vuol fare un po' di allenamento, vuol faticare un po' di più, questi sono i percorsi che noi proponiamo. L'hai già detto tu, un appuntamento nell'ambito delle cinque terre della Val Gandino, quindi tante realtà coinvolte anche di diversi paesi. Sì, difatti. Sono orgoglioso proprio di avere questa collaborazione da otto edizioni con soprattutto due associazioni fondamentali che sono lo Sciclub di Peia e l'Avis di Cirano. Ognuna delle due associazioni copre il proprio territorio, quindi anche durante i quattro percorsi ogni associazione a questo punto propone un ristoro, quindi c'è un ristoro a Cirano, due ristori a Peia e due ristori qua all'Effe. Quindi è proprio una collaborazione ormai consolidata, una bella collaborazione, ognuno si gestisce praticamente il proprio territorio, quindi anche con la segnaletica, quindi se i percorsi sono segnalati bene è merito anche delle varie associazioni. e poi diciamo che in questi anni il numero dei partecipanti è andato sempre più più aumentare. L'anno scorso abbiamo avuto questo record di partecipazioni, quindi erano 800 concorrenti che hanno partecipato, hanno camminato, hanno festeggiato, quindi diciamo che ci togliamo ogni anno una bella soddisfazione, grazie anche alla collaborazione di queste due associazioni che è lo Ciclub di Peia e l'Avies di Cirano. Ricordiamo naturalmente anche chi organizza. Beh, organizza soprattutto l'Effe Giovani, partito dall'Effe Giovani, questa associazione che si impegna nel paese di Leffe a organizzare eventi. Io seguo da, diciamo, 4-5 anni questa marcia di Coertì e soprattutto anche alla collaborazione. Ecco, tendo a precisare che fra le tre associazioni e tutto quanto vuol dire che siamo impegnati più di 60-70 persone. Quindi ogni attraversamento, ogni bivio, c'è un ragazzo giovane, c'è qualcuno che in caso di bisogno o di informazioni c'è sempre il posto presidiato da un volontario. Tutti volontari, tutti che dedicano il proprio tempo alla marcia di Coertì. Quindi io non posso che dire grazie a tutti quanti. Piberon è la nostra rubrica di oggi. Andiamo quindi a conoscere i bimbi nati negli ultimi giorni all'ospedale di Piario. Grazie. 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 Per noi adesso una breve pausa. Ci rivediamo tra poco con la parte finale. Grazie. 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 Rieccoci in onda con il nostro telegiornale verso la fine con i programmi di Antenna 2. Iniziamo dal canale principale. Questa sera alle 20 la preghiera in famiglia a cura dell'oratorio di Clusone. Alle 20.05 il programma di motori Paddock, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.15 il programma di sport invernali N come neve. Il canale 218 invece propone alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima target questa sera dedicata al 65esimo del gruppo sportivo Marinelli di Comenduno. Il canale sportivo 628 propone invece alle 20.30 la rubrica S4 Sport Outdoor e alle 21.30 tempi supplementari. E proseguiamo con l'almanacco, domani è venerdì 30 marzo, il sole sorge alle 6.59 e tramonta alle 19.50, la luna è piena, sorge alle 18.36 e tramonta alle 7.21 di sabato. Chiudiamo con le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, cielo coperto e precipitazioni estese di intensità da moderata a forte, temperature in lieve calo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.